Buongiorno a tutti e bentrovati. Ci siamo lasciati prima della pausa estiva con la fase di compilazione delle domande di inserimento nelle graduatorie provinciali di esaurimento e ci ritroviamo adesso ai primi giorni del mese di settembre con le graduatorie già pubblicate in quasi tutti gli uffici scolastici d'Italia. Sono numerosissimi però i problemi che si stanno riscontrando in quanto sono pervenute molte segnalazioni presso la nostra redazione circa evidenti e grossolani errori riscontrati nelle graduatorie appena pubblicate. Si tratta soprattutto di errori riguardanti la valutazione dei titoli prevalentemente dei titoli di servizio ma anche inserimenti errati tra prima e seconda fascia. Quindi è grande l'apprensione dei docenti che sperano tanto nella entrata in funzione delle graduatorie provinciali per le supplenze per aspirare al conferimento appunto di incarichi di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche. Tuttavia questi errori riscontrati sicuramente freneranno l'entrata al regime delle graduatorie provinciali. Sebbene il Ministero per via della tempistica ristrettissima abbia pubblicato direttamente le graduatorie definitive e non le provvisorie, noi stessi abbiamo consigliato di presentare reclamo all'ufficio scolastico competente per segnalare gli errori materiali o comunque le irregolarità riscontrate nelle graduatorie appena compilate per sollecitare un intervento in autotutera dell'amministrazione. Infatti l'unica alternativa in caso di mancato intervento direttifiche da parte degli uffici è quello di proporre ricorso giurisdizionale. Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza, qui la giurisdizione sarebbe del giudice amministrativo, quindi sarebbe da proporre direttamente ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, e evidentemente con un allungamento dei tempi e con costi non indifferenti per i docenti. Quindi la certezza non è così solida che si possa regolarmente avviare il nuovo anno scolastico utilizzando le nuove graduatorie provinciali, perché se non verrà in qualche modo rettificata questa situazione di grandissimi errori riscontrati, sicuramente i tempi si allungheranno a fronte dei numerosi ricorsi che certamente arriveranno da più parti d'Italia. Grazie e arrivederci.